Cari appassionati di fungo ciclismo, prepariamoci ad un maggio di siccità, spero di non essere di cattivo augurio, però bisogna prepararsi alle condizioni peggiori, quindi quello che faccio in questo viaggio fungaiole, in questa avventura fungaiole, sarà andare a prepararsi dei luoghi da vedere, freschi, da poter visualizzare. E ovviamente andremo anche a vedere se questi famosi prugnoli sono riusciti a venire fuori, tra l'altro in questa zona qua vicino a Maresca. Però ora ci passo da ultimo e andremo ora a fare un ampio giro, andiamo intanto giù, vedete, verso San Marcello Cristoiesi e dalla via, sono passato dalla vecchia ferrovia anche, giù a Mammiano, Ponte Sospeso e andiamo poi verso Pian degli Ontani, Pian di Novello. Facciamo tutto questo ampio giro per dare un'occhiata a varie zone basse che ci sono, per vedere se ci sono delle occasioni, delle zone buone per prepararsi a maggio a trovare i primi porcini. Vedete anche un esempio qua, una zona, vorrebbe essere interessante, questa è la realtà, il passaggio pedonale porta al ponte sospeso di Mammiano, ma può essere interessante valutare. Questo qui secondo me non è un posto buono, ma farò vedere i criteri, anche per chi non è della zona, i criteri che, diciamo, mi fanno immaginare che un posto sia buono per i funghi. Ecco, magari sotto quelle due ferce ci sarebbe da guardare, però è un posto molto visitato. Ora mi fermo un attimino al ponte sospeso, mi accorgo che non posso passare con la bici perché il ponte è lungo oltre 200 metri, ma è più stretto del manubrio della mia bici. Guardate voi stessi, peccato, sostanzialmente si era dovuto passare con la bici impennata per tutto il tragitto, con il ponte oscillante non era il massimo e quindi ho deciso di fare il giro largo e di rientrare poi a Pian degli Ontani. Comunque, quelle zone, volevo vedere, le ho viste lo stesso. Vedete, è stretto, è stretto, peccato, è un ponte fantastico, viene utilizzato dai lavoratori che stavano a Popiglio per andare nelle ferriere che stavano dall'altra parte della Lima. Pian degli Ontani, ecco qua, salto di diversi chilometri, ovviamente me li sono fatti tutti in bici, arrivo a Pian degli Ontani, poi Pian di Novello e in queste zone qua, queste sono zone alte, però non conosco bene i regolamenti, probabilmente qui c'è un parco e tra l'altro sapevo che c'era anche, se era stata istituita di recente, è una zona a pagamento per i funghi e quindi chiedo a voi un pochettino di lumi su questa zona che è molto famosa, ovviamente la più famosa zona fungaiola della Toscana e quindi io, siccome vado nelle zone meno famose, perché mi piace così, però voglio sentire un attimino cosa dite voi e queste sono zone dove, quando escono i funghi, nelle zone dove si può andare a prenderli, c'è come il mercato e quindi non è che mi attraggono granché, però magari a giugno, a maggio-giugno, dove si, nelle zone ovviamente dove si può andare mi devo informare prima, perché qua c'è un, intanto c'è un parco chiuso, la riserva di Campolino e lì ovviamente non si può probabilmente nemmeno entrare, sono un'ottantina di ettari, piccolino questo parco poi c'è la zona di Pian di Novello, Pian di Lontani, credo in basso ci sia una riserva a pagamento e poi c'è questa zona qua, vicino alle regine, Fontana Vaccaia, questa è un'area protetta, vedete e non so però a che livello è protetta, quindi chiedo a voi un po' di lumi e qui arrivo alle regine e poi vado a una zona dove invece qui non ci sono problemi, zona giù verso il bicchiere e quello che mi interessa è, anche per chi non è del posto, per capire un attimino come si ragiona per trovare una zona bassa, vicino ad un torrente, una zona fresca dove c'è una certa umidità permette di uscire a funghi in momenti secchi, specialmente porcini che riescano a uscire in momenti secchi quando ovviamente però ci sono un minimo di condizioni di pioggia comunque queste zone qui sono abbastanza fresche, io ho dato un'occhiatina alla faggeta faggeta che vedete sta un po' retrocedendo rispetto alla betaia però comunque è bella, fresca e interessante questa zona qui bisognerà vedere se qui sarà l'altitudine giusta e l'umidità giusta per avere i primi porcini dell'anno però potrebbe essere in una zona non tanto alta, siamo intorno a 1000 metri perché sono scelso giù dalle regine un bel po' e non siamo lontani dalla valle della Lima perché la Lima, proprio dal fondo valle della Lima che è un fondo valle stretto, perché qui siamo vicino alla sorgente della Lima vi farò vedere come lo raggiungo intanto qua non certo per trovare gli ultimi dormienti, marzuoli perché c'è stata in realtà una buttata, mi hanno detto ma io non sono riuscito a approfittarmi perché non ero in zona una buttata la settimana scorsa non so se voi avete delle notizie, fatemi sapere nei commenti gli ultimi marzuoli sono stati e a dire la verità io quando sono venuto qua ho visto la neve là sul libro aperto c'era ancora un po' di neve segno che comunque le temperature sono state basse in queste zone rispetto invece alle pianure dove in realtà abbiamo visto un bel accenno di primavera qua è stato il clima più rigido chiaramente, anche se le telepiante hanno iniziato a vivere si sono preparate a una splendida primavera il problema di questa primavera è che hanno messo tanta acqua nel meteo e poi non piove questo non è un bel segno quando mettono l'acqua e non piove poi potrebbe succedere avanti così per un mese non è la prima volta vedi previsioni, piove, 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 qua arrivi e va nuvoloso fa vento, fa due gocce e alla fine ti ritrovi che i funghi non escono e qua vedete io rientro un attimino sulla strada asfaltata che però finisce e qua mi vado a trovare il sentiero qui sono stato un po' fortunato il sentiero che porterebbe poi a Rivoreta quindi tutto sul fondo valle della giovane lima diciamo lima ancora molto stretta molto piccolo, torrente, montagna qui siamo a un'altitudine che è comunque sotto i mille metri se non sbaglio e qua però vedete sembra il sentiero finisca e mi ritrovo un pochettino spaisato però vedendo la lima cercando insomma una soluzione provo a vedere di guadare guadare la lima però non è facile ci vuole un ponticello però il ponticello sono stato fortunato e poi l'ho trovato vedete questo è un ponte non sarà il massimo ma insomma come fate a guadare la lima qui? si si può guadare là sopra però con la bici portarsela dietro poi il problema è che dall'altra parte c'è uno sprofondato e quindi non c'è il sentiero quindi questo invece è il sentierino facile e facile porta a Rivoreta c'è perché ovviamente è utile anche a Rivoretani e quindi si collega sostanzialmente le regine con Rivoreta il che è veramente comodo se uno deve fare un ampio giro di fungociclismo mi rendo conto che non ha senso per un fungaiolo in auto ma in bici è veramente fondamentale si possono andare a vedere 3-4-5 posti in una botta sola da Rivoreta poi io proseguo sul fondo valle salgo e scendo a varie attitudini per vedere un attimino anche qui se ci sono delle zone interessanti e qua siamo più bassi quindi vorrebbe essere in un periodo sappiamo che a maggio i funghi possono fare più bassi poi vanno in alto in estate i porcini intendo e poi ritornano bassi in autunno quindi diciamo inizialmente vorrebbero iniziare a uscire da queste parti qua in questi boschi qua bassi comunque vicino alla Lima umidi se è piovuto poco qua c'è un altro ponticello però se andiamo troppo vicino al fiume al torrente è chiaro che poi non si trovano più i funghi perché ci sono altro tipo di situazioni la vegetazione non è favorevole nemmeno avere lo spazio per trovare i funghi mentre nel paleo i funghi invece i porcini nel paleo sapeste quanti ne ho trovati si vedano male però è perfetto per mantenere l'umidità e per mettere a funghi di uscire quel paleo misto magari in zone dove c'è più paleo o meno insomma si trovano bene col paleo e vedete qua ora io vado un attimino a risalire di nuovo proseguo sempre questo sentiero questo sentiero è ve lo farò vedere poi meglio e porta vedete a Cotigliano Cotigliano che è una metropoli non è un borgo medievale è gigantesco è immenso è facile perdersi per Cotigliano credo sia più grosso di di tanti borghi medievali molto più noti quindi attenzione a Cotigliano insomma godetevelo però è facile anche perdersi perché sono tante stradine strette viottoline io dopo una serie di studi ho trovato il modo per attraversare Cotigliano e andare poi a diritto fino praticamente a Pratale e lì iniziano a Pratale questa è un'altra cosa fondamentale qui c'è la Romea Strata e permette di fare questo passaggio questa Romea Strata è veramente una strada utilissima e insomma sono sentieri antichi che bene o male sono stati un attimino recuperati e permettono di stare sempre vicino a Fondovale senza fare un grande dislivello e vedete anche questa è una zona molto buona molto permettente io ho cercato dei dei pruni insomma dei strozzaprieti per vedere se trovo dei prugnoli in questa zona vedete là davanti c'è la Statale 12 e la Pietone non altro quindi sostanzialmente siamo di fronte insomma io ho cercato un attimino se vedo dei prugnoli prima ovviamente bisogna trovare la pianta dello strozzaprete e non l'ho trovata l'ho trovata alcune poi dopo però ho dato un'occhiata comunque perché a volte ci sono e non si vede bene le piante e poi magari c'è qualche galletto ecco i galletti vorrebbero già uscire io a prima li ho trovati i galletti ora siamo già a Maggi quindi bisogna vedere un attimino se si va anche il galletto il bosco non è proprio proprio umido nemmeno troppo asciutto però è un po' probabilmente sono mancate un po' le piogge e questo mi preoccupa per maggio perché io mi aspettavo una pioggia subito all'inizio del mese di maggio vedete questo qui non è uno strozzaprete ma è pianta è però una rosacea e comunque nel dubbio da un'occhiata nello stesso qua un po' tra il paleo ecco qua non mi stupirei a maggio insomma a maggio in oltrato già siamo a maggio insomma da metà maggio in po' di trovare dei porcini non mi stupirebbe per nulla e ho pure tanti galletti perché questa è una zona perfetta si vede ma si vede a occhio che questa è una zona da funghi buoni valida non è una zona dove c'è quella vegetazione oppressiva troppo vicina ai fiumi e torrenti e non è quella zona troppo alta che non è ancora pronta qui da qui in poi se piovesse i funghi ci sarebbero quindi io ritornerò anche a dare un'occhiata a queste parti mi sto collezionando una serie di posti del genere più alto e più bassi per poi poter fare un giro uno di tutti perché voi sapete che maggio e giugno sono mesi ottimi per i funghi ma fanno macchia di leopardo non è come in autunno sono mesi ottimi vi ripeto però bisogna vedere tanti posti e farsi poi un'idea chiaramente poi se avete le dritte di qualche amico meglio però bisogna se no altrimenti farsi un po' da soli le ossa andare a vedere i vari posti oppure metterli in un itinerario tutti insieme come sto facendo io di infilata per vedere qualcosa insomma io avevo speranza diciamo di trovare qualche funghetto qualche porcino no però qualche galletto magari si qualche prugnolo prugnolo vedete qui c'è il ponte un ponte sul ponte ambolino pare siamo questo siamo quasi arrivati a purtroppo la sera sta iniziando a declinare e poi faccio tardi perché devo arrivare fino quasi a maresca per rivedere il punto dei prugnoli il posto segreto dei prugnoli che ho fatto vedere nel video precedente vedete qua dopo il pratale si sale su leziano più stese con le sue bellissime affreschi e però arrivo un po' in ritardo un po' buio quando nel punto diciamo che mi interessa dei strozzapireti i prugnoli e però do un'occhiata allo stesso non ovviamente confinata a fungaiole però sempre per sudare un po' vi ho fatto un video in diretta non in diretta no ma insomma in differita postato qualche giorno fa insomma queste sono le immagini di allora e vedete purtroppo niente e mentre vi attraverso maresca di notte io vi saluto per una prossima straordinaria avventura fungaiola sarà un grande maggio fidatevi arrivederci perché si rispendo vi